ciao a tutti ragazzi oggi vi porto un video dove vi spiego e vi faccio vedere come aprire il bunker 11 su warzone come prima cosa bisogna sapere che le fasi per aprire il bunker 11 sono tre ovvero bisogna trovare uno dei tanti telefoni che squillerà su warzone il quale ci darà tre numeri in russo e poi dovremo decifrarli bene la fase 2 invece è andare a rispondere ai telefoni che hanno quel numero bene la fase 3 invece aprire il bunker 11 adesso vi mostrerò una mappa che ho preparato per aiutarvi allora vedete ci sono dei puntini rossi dei puntini blu con dei numeri e la posizione del bunker 11 i puntini rossi sono secondo noi provando riprovando i telefoni che danno una maggiore probabilità di risposta ovvero ci diranno i tre numeri per la fase 2 come detto in precedenza questi tre numeri saranno in russo ovvero il telefono squillerà parlerà russo poi avrà un segnale acustico come potete sentire e vi darà una sequenza di numeri per capire questa sequenza bisognerà o imparare i numeri da 0 a 9 in russo oppure trascriverci la pronuncia esatta su un foglio di carta adesso per semplificarvi la cosa vi mostrerò quella che ho usato io nella fase 2 una volta che abbiamo preso la sequenza dei numeri dobbiamo seguirla ovvero se la sequenza dei numeri è 108 bisognerà andare prima al numero 1 poi al numero 0 e poi numero 8 e rispondere ai telefoni quando risponderete telefoni si eviterà subito il codice mors vuol dire che siete stati i primi ad ascoltare quel telefono se invece parlerà e poi eviterà il codice mors vuol dire che è già passato qualcuno quando avrete risposto a due telefoni e andrete a rispondere al terzo alla fine del codice mors ci sarà un feedback se il feedback è positivo ovvero come sentirete adesso vuol dire che il bunker si aprirà se invece il feedback è negativo come sentirete adesso vuol dire che avete sbagliato la sequenza devo dirvi un'ultima cosa praticamente la sequenza può essere eseguita da tutti i giocatori in team però ogni giocatore ha tre slot per i numeri ovvero quando un giocatore risponderà al telefono diciamo 0 e lo 0 gli andrà nel suo slot immaginario 1 poi risponderà al 9 e all'8 e quindi avrà tutte e tre i slot occupati quindi questo cosa vuol dire vuol dire che se vi separate e il giocatore 1 risponde al telefono 1 e il giocatore 2 risponde al telefono 0 e il giocatore 3 risponde al telefono 8 non avrete completato la sequenza perché ogni giocatore dovrà completare la sua sequenza cioè il giocatore 1 dovrà rispondere a tutte e tre i numeri della sequenza ovviamente basta che un giocatore avrà la sequenza completata per aprire il bunker non c'è bisogno che tutti quanti i giocatori in team abbiano la sequenza completata quindi una volta che il giocatore 1 completa la sequenza potrete andare ad aprire il bunker detto questo vi auguro una buona visione e grazie a tutti per avermi seguito io non trovo a cannone eh non ci fanno qualcosa io lì queste pratiche si muovono eh ma non ma perché non c'è nessuno cinque secondi acquisto ok capito un mezzo fish no 27 tolone mi amico in discesa nell'area operazione sinistra non è stato un blocco non è stato per un'occovo con di ossa arrivano tardi quota finito no ok ok lo star mezzo cioè dove mi ha preso quel cuore 2 aspetta che mi impiccio 2 stava a cuore ricordo più a questo qui ti ricordi il nuovo gioco vado più in mezzo ormai del mio visto o mille metri camion davanti a noi taserio davanti a noi un altro qua davanti davanti a noi però quando sono finiti ma lo so davanti e battere entrato all'incontrario aperto non ho risponduto se c'è il cium pare che c'è nessuno infatti c'è nessuno il quilo c'è anche davanti a scena davanti non ho preso x ma apporto la pregine scuola adosuto l'uomo l'aereo schiacciato si si no la sua destra che ci sarebbe stata portarla davanti per entra sotto il bagaglio ma mia sta mezzastrada vedo chi si vede... ok passa dentro, passa dentro non vedo più vabbè forse così ma così non è meglio appunto dove mangiodFree.it non lo so dentro del tutto hoccato.it su cintro grande grande toccare nel buio piastre, ma io ne voglio dare per dire the three ma fa parancicino il tutto che ci va che si può dai 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 io venga venga sette minuti per dire che abbiamo fatti i gg gg mandato lo che è il modo tiri tiri tagli dai come un po' di piastre qualcosa io c'ho con dubbio un amore un amore il tuo un amore si ricarica su sessanta secondi no no te devi bomba a te eh non c'ho più i culpi che pare già stanno lì aspettando si ah vamo così vado la apro il bunker e poi mi levo quando si apri ti entra fammi provare ah no devi aprire te eh si no no io sicuramente riesco a aprirlo però era per fatta l'apri a te perchè sennò andava avanti io a aprirlo mi ammazzavo una mente oh si sta nel corno mi ha crackato non ti prendono mi ha finito i corpi che robasco porca ziggia porca porca ancora c'è stavola gente va dritto va su va su va su va su dentro sta casa vai 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 buttate buttate dammi i corpi c'è lei qualche corpo da R qualcosa? eh vedo aspetta pure due caricatori mi ha aperto la mappa di oh e b**** c'è eh c'è sta un team eh tocca a farselo da sopra andate come mi ha dato tutto i modul contattori c'è un caricatore metti c'era che tomba se ce l'hai? si pure un cecchino si la sulla sui pompieri ok no 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 non so su ni sta ho presi tutte e due dai dai luce verde luce verde testa aprir dai 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 ti copro non c'è più armi dai vai dai guadagnetto vai 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 per tre 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 in tre tre eh veramente vediamo go sera pure wordoni voglio, dopo il tuo movimento più io ho messo il mio le cose poi stanno i progetti a quanto qui che c'è stato bombardamento il viaggio in più lo stanno i progetti nella stanza in fondo a destra a destra il posto inserisci il codice di censo qui ci sta, mi ha fatto dubbi, il countdown si perchè ho riavviato il computer, eccoli sono uguali arrivano dai, che gente per vita sei stata nucleare dai tu stai trovamolo eh lo sto cerchè, eccolo qua 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 eccolo no 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 ma che so sui numeri vai 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 fai tutto il copro c'è il puzzante ah da cavallo premi 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 il puzzante rosso scintillante vai 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 yeah spero che la nostra esperienza vi sia stata d'aiuto grazie a tutti ciao 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 ciao